Buongiorno, sono Anna Brescianini, lavoro presso la cooperativa sociale Cauto di Brescia e sono qui per raccontarvi del progetto Il pane che unisce, finanziato da Fondazione Telecom Italia nel bando sull'inserimento lavorativo che Fondazione Telecom ha lanciato nel 2009. Il progetto riguarda l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi la creazione di posti di lavoro mediante un'attività nuova, ossia il recupero alimentare dalla grande distribuzione e contestualmente la gestione degli imballaggi e quindi dei materiali che vengono scartati dei rifiuti. Cosa accadeva? Prima accadeva che la grande distribuzione non selezionava, non cerniva e gettava tutto quanto avanzava, quindi sia alimentari che non alimentari, sia rifiuti che beni non ancora diventati rifiuti quindi riutilizzabili. Cauto ha già sperimentato in alcune situazioni con alcuni supermercati questo percorso di recupero alimentare e con questo progetto è stato possibile finanziare una serie di acquisti di investimenti e la realizzazione di un nuovo settore vero e proprio. Quindi da sperimentazione siamo partiti invece con la stipula di contratti, sia con la grande distribuzione che nei comuni e la municipalizzata del territorio per sperimentare questa nuova attività. Ad oggi il progetto, dopo circa due anni dalla realizzazione, è riuscito a produrre 11 posti di lavoro di cui 6 per persone svantaggiate. Circa 2.570 persone che vengono raggiunte tutte le settimane dagli enti beneficiari che beneficiano di questi alimenti recuperati. Circa 60 gruppi del territorio vengono presso di noi di giorno in giorno e recuperano quanto noi selezioniamo e trasportiamo presso la nostra sede. È proprio un meccanismo di recupero e di donazione che investe il territorio della città di Brescia. Allora io sto facendo un tirocino e sono la cernita della frutta e verdura. Alla mattina esco con il camioncino e quando rientro do la mano ai volontari a separare frutta e verdura. Mi fermo fino alle 4, faccio anche la dispensa. Mi piace e speriamo di andare avanti così. Sì, mi piace, anche perché sei in mezzo alla gente, all'aria aperta. Siamo un bel gruppo. L'importante è che siano contenti gli altri. Io continuo con questo tirocino sperando che in futuro ci sia la possibilità di venire assunto, perché mi sarebbe bello. Io continuo con questo tirocino.